www.malizopoli.it, oggi parliamo di quanto costa crescere un figlio in Italia. I conti non sono facili, anche perché i prezzi e l'inflazione ci mettono del loro e quindi anche l'inflazione pesantemente incide. Ma ci proviamo con la ricerca fatta da MetLife, incrociando i dati di FederConsumatori e dell'Istat, l'istituto di ricerca, che hanno incrociato questi dati. Quindi dal primo anno di vita, quindi il bebè, il primo anno di vita da zero al primo anno, a seconda del reddito può costare dai 7 ai 15.000 euro. Crescere un figlio fino a 18 anni prima dell'ingresso in un'università può costare oltre 270.000 euro. Quindi poi se andiamo all'università, c'è il master, eccetera, eccetera, i costi lievitano. Vi riporto qui l'articolo sottostante per un approfondimento e una lettura, ricordando sempre che ci sono strumenti finanziari che possono accumulare del denaro in vista di queste spese. Alla prossima!